La Vastese si trasforma da difensiva in offensiva e mister Massimiliano Favo bagna il suo esordio in panchina con una sconfitta con la vice capolista Matelica che torna in pieno a corsa per la promozione diretta. Nella Vastese per le regole sui fuori quota in porta viene schierato Rinaldi, classe 98, russo in panchina. Il neotecnico dei Biancorossi vara inizialmente il 4-3-3 con Prisco Fiore e Felici in fase avanzata. 4-3-3 anche per il Matelica, la Bruzzese Mecomonaco schiera i grossi calibri dagli ex Lanciano, Rosania e Titone con presenze anche in Serie B al folletto molisano esposito del Pescara fino alla punta di Diamante Evacuo, 30 gol nell'ultimo anno tra Sansevero e Turris. I marchigiani sono una vera corazzata, arbitra il campano di Cairano, di Ariano Irpino per la prima volta pochi intimi allo stadio Aragona, entusiasmo già sopito. Al quarto minuto Matelica subito in avanti, Esposito pesca in area a Titone, Marinaldi si oppone, era comunque fuorigioco. Al nono però i marchigiani passano in vantaggio, una palla bassa arriva da sinistra, nessuno riesce a rinviare, Evacuo tira, poi Baldinini riprende e mette in rete. Ma dopo tre minuti c'è la doccia fredda e il raddoppio del Matelica, ecco che entra in azione Vittorio Esposito chiamato con una palla da destra a sinistra. Il Folletto si infila tra due avversari, arriva in area e batte nell'angolo più lontano. Due a zero in tre minuti, mortifero. La Vastese però non si perde d'animo, al ventisesimo i biancorossi accorciano, lancio di Manzo in area, Prisco controlla e batte con il sinistro laddove il portiere non può arrivare. Partita riaperta con il dodicesimo gol stagionale di Umberto Prisco. La Vastese prende coraggio iniziativa ma alcuni lanci trovano spesso Prisco in fuorigioco, molto alta la linea difensiva dei marchigiani. Nel secondo tempo Matelica con la difesa molto alta, a sua volta al quarto minuto Baldinini da fuori, parata plastica di Rinaldi. Al dodicesimo occasione Vastese, Felici si trova tu per tu con il portiere avversario ma guadagna solo un calcio d'angolo. Favo mette dentro Santoro per Cosenza e passa al 4-2-3-1. Subito dopo al diciassettesimo Santoro lancia Felici, traversone da fondo campo, Prisco tenta l'acrobazia, palla di poco alta. Solo Vastese in questa fase della partita inizia a giocare bene la squadra di Favo, il diciannovesimo imbucata di Felici per Prisco che va in gol ma il guardaline alza la bandierina. Da rivedere. Preme ancora Lavastese a trazione anteriore, entra in campo anche Romano ma il ventottesimo Tafili perde un pallone letale a centrocampo, poi De Cerchio serve Baldinini ma il diciannovenne Rinaldi salva tutto. Al trentaduesimo l'imprendibile Esposito trattenuto in area da De Cinque, rigore a termini di regolamento. Dal dischetto Titone non fallisce e chiude così la contesa. Alla fine Musi non troppo lunghi allo stadio Aragona, è anche vero che dopo questa partita Lavastese farà fatica anche a inseguire la terza posizione per essere in vantaggio nei play-off. Di lavoro ce n'è da fare ancora per Favo, la squadra tuttavia sta subendo una trasformazione con il sistema di gioco. La sua vastese in campo è quella che si sarebbe aspettato lei in questi giorni da quando è arrivato oppure c'è già qualcosa da rivedere? No c'è sempre qualcosa da rivedere, c'è da rivedere qualcosa come equilibrio generale perché non si può perdere. Queste sono partite dove la differenza la fa, a parte la caratura dei giocatori avversari, ma anche la capacità di sbagliare meno. E quindi io dico c'è sempre un equilibrio tra gli errori e la capacità di un avversario di metterti in difficoltà, o la capacità degli avversari che sono più bravi rispetto a quelli che in quel momento hai tu. Sono contento dei ragazzi, ripeto, il problema è che bisogna essere più attenti perché a un certo tipo di giocatori, nonostante abbiamo preparato la partita con dei raddoppi e avevo optato per dei 5 perché è un giocatore rapido, è un giocatore che probabilmente come passo, perché non lavoriamo ad uomo, quindi lavoriamo a zona, aveva optato per dei raddoppi. Spesso l'ha fermato. Eh sì, però comunque è un giocatore importante, dobbiamo lavorare un po' meglio soprattutto all'inizio, però comunque devo dire che c'è stata grande abnegazione, grande voglia e la strada, anche se abbiamo perso una partita, credo sia questa, perché credo che una buona, adesso non so i tempi, ma una buona mezz'ora l'abbiamo messi sotto. E questo è un campo che oggi non ci aiutava perché era molto molle e si pattinava molto, quindi mi auguro anche che poi con i tempi migliori la squadra possa esprimersi, anche perché è una squadra abbastanza leggera, con giocatori abbastanza rapidi, e quindi speriamo di poter continuare questo lavoro che è iniziato con me. Mi dispiace prima di tutto per la gente, perché alla fine la gente però ci ha dato una grossa mano, sono stati tambureggianti, hanno ringraziato i ragazzi a fine partita. Queste sono cose che fanno piacere. Inutile dire che non fa piacere assolutamente partire per me con una sconfitta e per i ragazzi che poi dal punto di vista morale una sconfitta in casa con un tipo di prestazione del genere non fa piacere a nessuno. Mecomonaco comunque negli ultimi anni ci sta quasi prendendo gusto a dare dispiacere alle squadre abruzzesi. Da abruzzese. No, è bene. Io alleno, sono anni e qualche anno che alleno squadre marchigiane, evidentemente lì sono apprezzato, non che in Abruzzo non lo sia, perché evidentemente le occasioni capitano lì per me. Sono felice per la mia squadra, per la mia società, che comunque fa tanti sacrifici. Abbiamo un obiettivo importante da raggiungere, non sarà semplice perché comunque la lotta è agguerrita, però io farò il possibile per portare più in alto questa squadra, perché comunque lo meritano un po' tutti, la città, il presidente, i giocatori, tutti. Ecco, dopo il mercato invernale, insomma, un organico che penso che possa solo che primeggiare, anche se il ritardo dalla fermana comunque è notevole, cioè, voglio dire, non ci si può assolutamente nascondere, è una bella responsabilità. No, no, non ci nascondiamo assolutamente. Noi poi a dicembre abbiamo cambiato diversi giocatori, questa squadra per 5-6-11 è stata cambiata, è ripartito un nuovo ciclo dal girone di ritorno, non è mai facile assemblare una squadra in poche settimane, però noi siamo una squadra tosta e abbiamo delle individualità importanti che possono risolvere la partita in qualsiasi momento, dobbiamo solo stare attenti a non prendere qualche gol che prendiamo in modo un po' ingenuo.